Questo video riguarda i migliori tre lampade da tavolo. Il vincitore della qualità è il Stilosa Lampada. Modello aggiornato con nuovi colori, un design pulito e minimale, spinotto USB-C reversibile facile da connettere. Lampada da tavolo ricaricabile realizzata in alluminio. Altezza 38 cm, peso 800 grammi. Adatta sia per l'uso in casa che in ristoranti e strutture ricettive. Sorgente luminosa regolabile da 3.5 W composta da 20 più 4 LED con temperatura di colore 3000K, una luce naturale e rilassante ideale per la tavola e tutte le attività in casa. Si accende e si spegne con un tocco rapido sulla superficie touch del paralume. Si regola dimmer mantenendo il dito sulla superficie touch. Incorpora due batterie a litio a lunga durata, da 9 a 48 ore di illuminazione continua, in base alla luminosità impostata. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Kajim J Lampada da tavolo. L'aspetto semplice e unico unisce il fascino della modernità e della moda. Il tutto è realizzato in lega di alluminio metallico e il colore non cambierà anche se viene utilizzato per molto tempo. La batteria integrata da 3000 mAh, ecologica, a basso consumo energetico, può essere utilizzata per 11 ore dopo la carica completa. È la prima scelta per l'alimentazione di backup di emergenza in caso di improvvisa interruzione di corrente. Altezza 26 cm, larghezza 8 cm, braccio in metallo sottile liscio, design rotondo, illuminazione ad ampia area, nessun angolo morto di 360 gradi. Puoi portare la lampada da scrivania con te, non occupare spazio, il corpo è liscio e la durata è molto lungo. LED lampada da scrivania senza fili facile da trasportare e spostare, molto adatto per ristorante, bar, terrazze, comodini e aule studio. Il vincitore del premio è l'UFU lampada da tavolo. Lampada da scrivania con elegante paralume conico in metallo. Il paralume garantisce piena illuminazione sul tavolo e una piacevole luce di accento verso l'alto. L'illuminazione RGB crea ovunque un'atmosfera suggestiva. Tocca per attivare lampada touch, lampada ricaricabile da tavolo per accendere barra, spegnere barra, regolare le luci. Premere a lungo la luce cambierà automaticamente colore. Batteria ricaricabile incorporata. Può essere utilizzata per 10 a 12 ore dopo la ricarica di 7 a 8 ore. Con il cavo di ricarica USB da 1M la lampada a batteria può essere caricata facilmente. Facile da trasportare, si può portare in qualsiasi angolo della sala da pranzo, salotto, camera da letto e studio. Può essere utilizzata come luce di emergenza anche se la vostra casa non ha elettricità. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.